Ciao ragazzi, allora nuovo video per questo video ho pensato di parlarvi di un prodotto che vi ha incuriosito tantissimo su Instagram più precisamente sulle Instagram Stories vi parlo infatti di questo turbante in spugna del marchio Mio Mare che ho trovato martedì quando sono andata a fare spesa da Lidl era previsto infatti l'uscita di questo prodotto insieme a tutte le novità per il bagno avete visto appunto tramite le foto questo turbante e mi avete chiesto in tantissime cosa fosse come si usasse, perché l'ho comprato se secondo me funziona bene e quindi sono qui per farvi una piccola recensione era disponibile in vari colori io ho scelto di prendere questo grigio naturalmente un pochettino più scuro ma comunque che cos'è? ve lo fa vedere benissimo anche qui è un aiuto per asciugarsi i capelli sinceramente avevo già acquistato questo prodotto qualche anno fa come potete vedere anche da qui da Decathlon questo infatti è del marchio Nabaigi ve ne ho parlato anche in un altro video in cui ve l'ho fatto vedere anche come l'ho indosso indossato comunque è molto molto semplice da mettere e io lo utilizzo semplicemente dopo aver fatto lo shampoo quindi io vado in doccia lavo i capelli shampoo, balsamo e per tamponare il capello prima di procedere con l'asciugatura del fono sto qui 10 minuti, un quarto d'ora qui sotto e poi naturalmente continuo a fare le mie cose per casa senza problemi perché comunque essendo molto leggero sia questo di Decathlon che naturalmente questo anzi questo lo vedo ancora più leggero rispetto a quello rosa non dà fastidio sui capelli per quello rosa avevo un bottoncino che si lega tramite questo aggeggino qui questo è praticamente adesso lo scarto con voi la stessa identica cosa ha anch'esso il suo bottoncino è abbastanza grande quindi anche se avete i capelli molto lunghi riuscite assolutamente a coprirli ma la funzione di questo turbante l'ho trovata molto positiva sui miei capelli in quanto impiego molto meno tempo ad asciugarli e se posiziono sui capelli ancora bagnati ma molto molto bagnati l'asciugamano vedo che assorbe bene tutta l'umidità e tutta l'acqua in eccesso e quindi evita anche che l'effetto crespo ora con questo mi sono trovata molto molto bene e vi dico che è in 90% poliestere e 10% poliamide e stessa cosa questo di Mio Mare sinceramente ancora non ho utilizzato questo di Mio Mare ma il prodotto o comunque la consistenza della spugna essendo molto molto simile posso dirvi che andrà benissimo il prezzo è più o meno uguale questo infatti dovrei averlo pagato 4,99€ e questo anche dovrebbe venire o 4,99€ o 4,69€ bene ragazzi con questo è tutto mi raccomando fatemi sapere anche voi se avete acquistato entrambi questi turbanti se li utilizzate con piacere come vi siete trovate ricordatevi come sempre di lasciarmi un bel pollice in su di supporto al video e di iscrivervi al canale e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video un bacione ciao